Pochi giorni alla trasferta di Castellammare di Stabbia, il Taranto è concentrato esclusivamente sul campo e Capuano, dopo la vittoria ottenuta in extremis contro il Latina, cerca continuità anche lontano dalle mure amiche. Per l'occasione, il tecnico potrà nuovamente contare su Ferrara, che ha scontato il turno di squalifica. Nonostante il gol di Boccadamo, il capitano è favorito per posizionarsi sul lato di sinistra, nonostante non si escluda che tra i due possa esservi una staffetta. Crecco, dal canto suo, dovrebbe tornare in mezzo al campo nel ruolo di Mezzana Mancina. Capuano pensa anche di concedere una nuova chance a Nocciolini in tandem, questa volta con Tommasini. In attesa di capire le condizioni di Bifulco, che domenica, nonostante fosse tra i convocati, in realtà non era neppure indistinta, sono loro due i principali indiziati a scendere in campo dal primo minuto, con Semplini e Rossetti pronti a subentrare in caso di necessità. Contro la Juve Stab, infine, scenderanno in campo in regime di diffida sia di AB che Mastro Monaco. Per entrambi, in caso di cartellino giallo, scatterebbe un turno di stop.